musica 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 qualcuno prende l'MF che così intanto lo utilizziamo come si chiama kate moore gira di osso da me osso pigliano e no e quelli del suono per sicuro dove sei io vado in giro qualcosa del suono caccia mi ha fatto dove eri? passo veloce accelerato mentre scappavamo quello e lo fanno qui mi ha ucciso mi ha ucciso mi ha ucciso bambino di madre sono ucciso tutti e tre si vede e questa modalità sfida non arrivaremo dove ti sei nascosto? io sono nel furgone ero appena uscito a me rega in questa stanza qua ha iniziato a inseguire dove 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 sei piano terra da qua ha iniziato a inseguire perché io voglio ho fatto agire intorno al tavolo poi stavo scappando qui ma mi sa che è il reverend pensi ha ammazzato jessica all'inizio delle scale si è stati fermi ancora un attimo è stavanento appena sono uscito mi ha fatto si era giù sono d'accordo secondo me pure però non mi vado non mi vado ma cosa ma dove ma quando mai ma non ma non può essere non wow che f***a mi dai che rispondi a tutti sarà sarà smith è smittina cazzo è successo quel panico dacci un segno vabbè ma è diventata la torna di di durmag sta cazzo di mappa regalo ho trovato scendete giù quanto giù uh mf davanti a me a quanto? mf4 tocco giuda oh ma è qui? rega vedi quando sto io a 4 gradi ma c'è l'emf4 anzi 3.3 2.9 allora sai che so gemelli a dire lascio un secondo a lì vediamo qua ma non è per terra porca manosca vai via è lontano da me via via tutti via via mi stava inseguendo quando io ho fatto vai via non prendermi sono andato indietro per davvero per davvero e vedi qui non è come quella modalità qui è collaborativo vedi vuoi che me ne vado? si vuoi che me ne vado? si sta scendendo come sta scendendo? hai aperto la porta? si è fatto un'apparizione mi son cagato in mano beh non so l'ho vista della telecamera dove sei? è così è così ecco oh dove era? no non ci credo dots 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 ecco dots stacciamoci via ragazzi può essere un oh oh bruciato il crocifisso su ah no da ma no no è un 3 cazzo 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 fermi 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 si è rincoglionito sta tornando sopra tu l'hai sempre visto tramite videocamera ehi beh quello dico capi? perchè io ho visto allora gorio perché dicevi tu? io non l'ho mai visto anche che sono stato tutto il tempo in una stanza io non l'ho mai visto e allora è gorio raga nooo è un ono incredibile nooo no non lo so grazie a tutti